Tapiro d'oro a Nicola Zingaretti, attuale presidente della regione Lazio. A Roma, una capitale, una città eterna per eccellenza, gli va a consegnare questo ambito premio. Però pensate che lo stesso Nicola Zingaretti avrebbe rifiutato questo premio. Probabilmente, per quanto riguarda le dimissioni che sono arrivate da parte di Zingaretti, dimissioni irrevocabili, dalla carica di Presidente, lui è un radimo. Così Staferli va a Roma e incontra Zingaretti. Zingaretti però non accetta il premio in questione. È tranquillo, è sereno, è comunque felice, è ragionante, accarezza il tapiro d'oro, però non lo accetta, non lo prende in mano. Si limita a fare due o tre carizze. Bene, questo è quanto. Grazie a tutti per l'ascolto e per la visione di questo video. Iscrivetevi al canale, commentate. Un saluto da Dario Dario, narratore italiano di YouTube Italia. Grazie a tutti.